buongiorno pr questo video per farti vedere come il carico elettronico per prova di alimentazione eccetera 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 eccolo qui abbiamo usato una vecchia scatola della nuova elettronica alimentatore 2 ampere da non considerare poi si coprirà in qualche modo ma vale la scritta sotto carico elettronico lo strumento pure è stato modificato ho messo m elettronica vabbè perché è il mio nome e cognome e ho messo anche il tuo e la scala parla di ampere e volt chiaramente su un'unica scala l'ho tarato in modo di fare sia ampere che volte con un'unica scala questa è la commutazione dei sia ampere che volte dello strumento la regolazione del potenziometro per la variazione degli assorbimenti e poi abbiamo la corrente costante o qui c'è scritto tensione costante però sarebbe resistenza costante mi sono accorto solo adesso che ho scritto sbagliato vabbè comunque questo è carico praticamente una resistenza di carico costante adesso abbiamo inserito nel nostro ingresso del carico un alimentatore da banco che io io qua che sarebbe poi questo che sta a 10 volte circa 0 assorbimento perché chiaramente il carico è spento andiamo a vedere l'accensione ecco qua partite le ventole di raffreddamento a velocità bassa se si dovesse superare la temperatura interverrà il famoso termostato che abbiamo visto l'altra volta preso da un atx alimentatore per i computer che varierà la velocità delle ventole e accenderà qui davanti l'over temperatura e che quindi segnalerà che c'è praticamente la retta di raffreddamento che sta superando i 50 60 gradi in una certa temperatura allora detto questo andiamo a vedere il funzionamento l'alimentatore acceso il carico inserito andiamo a variare sto per tensione costante sarebbe il carico costante passiamo iniziamo con corrente costante quindi ad un assorbimento di corrente che parliamo di circa 5 ampere più o meno siamo quel valore lì 5 ampere qui giustamente la scala sta per ampere e andiamo a vedere che in effetti anche qui abbiamo 5,6 vabbè lo strumento non è proprio precisissimo anche se regolando finalmente ci si arriva devo tarare meglio i trimbe però per farti capire che insomma tutto regolare ci si arriva quindi che cosa succede adesso che se io vario la tensione qui ho una variazione di tensione del mio alimentatore ma la corrente rimane costante e quindi questo questo tipo di funzionamento è ok adesso andiamo a testare invece la resistenza costante allora in resistenza costante anche qui andiamo a postare praticamente che cosa succede all'alimentatore abbiamo impostato una corrente massima di protezione infatti segna cortocircuito perché perché ho dato troppo assorbimento qui al carico ecco quindi lo porto con l'assorbimento di 5 ampere circa facciamo così vediamo un attimo deve essere una toccatina proprio da maestro se io vado aumentare il carico e la tensione giustamente mi aumenta anche l'assorbimento perché in questo modo come ampiamente hai spiegato tu l'alimentatore lo vedrà come una resistenza che io ho impostato come 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 soglia diciamo una resistenza impostata sempre dal trimmer e lui in base alla resistenza che io ho impostato qui mi verrà a fare degli assorbimenti sia in tensione che in corrente praticamente la variazione che avrò sull'alimentatore la vede proprio come fosse una resistenza pura vera e da qui io posso controllare sia gli ampere che le tensioni allora ecco qua l'alimentatore segno 8 volte 6 ci siamo posso portarlo non so intorno i 10 volte eccolo qui la segna 18 però ripeto si può regolare trimmer e l'ampere assorbiti sono 5 ampere eccoli qua infatti è giusto anche qui come carico resistivo funziona perfettamente e lo strumento mi dà esattamente queste misure esattamente ripeto siamo al virgola qualcosa ma io lo possono ricorreggere con questi trimmer qui adesso andrò a farti vedere allora stiamo guardando all'interno e i trimmer che sono stati aggiunti al deviatore praticamente uno regola la tensione questo ho messo un trimmer che regola la tensione che lo prendo da praticamente dalle boccole d'ingresso e sotto c'è l'altro trimmer che regola la corrente che è stato un filo preso da qui dalla praticamente dalla resistenza del carico praticamente dove passa la corrente dentro la resistenza questa resistenza farà una leggera caduta di tensione che praticamente determina poi l'assorbimento del circuito l'ho spiegato così velocemente però giustamente il video che hai fatto tu lo spiega nettamente meglio io ho solo preso l'assorbimento una variazione che c'è qui non ho fatto altro che prendere che poi è lo stesso punto che praticamente riporta all'integrato la variazione dell'assorbimento però ecco io l'ho usata per fare questa misura qui ecco qua va beh il video è un po ballerino però ci siamo capiti il cablaggio è stato un cablaggio un po veloce d'accordo però funzionale io qui ho messo tutto c'è lo strumento c'è il trasformatore in alimentazione del circuito le due resistenze che ho appoggiato qui è per far vedere che si possono aggiungere altri due mosfet con lo stesso sistema una mille buchi si farà il circuito per questo integrato pilota i due transistor e i mosfet del pilotaggio praticamente partendo da questo da questa basetta qui dall'alimentazione di questa basetta si possono aggiungere altri due mosfet però questa per il momento non serve perché ho visto ho notato che migliorando la dissipazione dei mosfet con queste due alette di raffreddamento sul corpo sono riuscito ad ottenere una dissipazione maggiore perché ho notato che mettevo il dito sul corpo prima che il mosfet passa il calore alla aletta a un momento di transizione che praticamente il corpo va super abbondantemente gli 80 90 gradi allora per permettere il tempo necessario del calore di per passare sull'aletta intanto dissipato quello che sta sul corpo ecco sono caldi sono abbastanza caldi però permette questo alle ventole che stanno dietro di raffreddare anche il corpo tramite queste due alette e ho notato che resiste di più praticamente mi dà più tempo per fare le misure a come sta adesso praticamente se noi lo mettiamo in assorbimento ecco qua raggiunge tranquillamente i 10 e momento diciamo diminuiscono la resistenza di carico lo porto 10 10 10 a 10 ampere di assorbimento sempre con i 10 volt eccolo qua arrivato al massimo suo operativo che sarebbero i 10 ampere ma questo più di questo non dà perché se io provo alzare di più chiaramente mi si accende cortocircuito dalla protezione e quindi questo è il massimo ottenibile di 10 ampere questo è il massimo di resistenza che gli si può dare ma io dico massimo si intende il minimo perché chiaramente più a basso la resistenza e più lui assorbe l'alimentatore vabbè ci siamo capiti comunque vabbè qui abbiamo una panoramica di strumentini che ogni tanto faccio rivedere perché sono molto utilizzati vabbè che aggiungere non c'è altro da dire il carico funziona perfettamente il carico elettronico eccolo qui diciamo in una panoramica più ampia finito adesso metto il coperchio e diventa operativo nel mio laboratorio e posso iniziarlo ad operare ok grazie di tutto ci sentiamo prossimamente